Ecco la mia intonacattrice ad aria, una tramoggia, quattro fori di uscita. Una buona spinta, per funzionare l'ho collegata all'aria, ma io ho un compressore da 50 litri, quindi l'ho attaccata a questo compressore, a questo, e poi vi ho collegato un T e collegato a un altro compressore da altri 50 litri, così ne ho due in coppia, almeno ho una... la pressione è sempre l'autotmosfera, ma almeno ho molta portata, il doppio perlomeno, due da 50. E poi, visto che non mi bastava ancora, ho un'unità ancora più portata con anche questo, un T, da qua, che esce da qui, e va a questa bombola che ho modificato come contenitore ulteriore. Quindi io ho 50 e 50, poi non so questa bombola, una bombola da 15, quanti litri d'aria ci stiano. Ma a me è una buona spinta l'intonaco. Grazie. 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 Grazie.